Bisogna eliminare le persone tossiche. Questa è la frase che sento, leggo più spesso sui social, in giro, nei post magari motivazionali o di crescita personale di qualcuno. Ok, e come si fa? Perché se con quelle persone negative, che magari si lamentano sempre, se ne approfittano di te, si fanno gioco di te, sono aggressive, sono maleducate, ci vivi o ci lavori tutti i giorni, come fai a eliminarle? Cosa fai? Gli ammazzi? Cioè, incentiviamo la violenza, che già ce n'è tanta? Vedi, più ti focalizzi, più ti convinci, più ti fissi che quello che sta rovinando la tua vita è il comportamento di una persona o di più persone, siccome su questi comportamenti non hai il controllo e non l'avrai mai, allora più senti che la tua vita è fuori controllo, senti e provi frustrazione. Piuttosto che pensare a eliminare quelle persone, occorre imparare a saperle gestire, perché nel momento in cui sai gestire e sai affrontare quelle persone negative, tossiche, vampiri di energia, allora il loro comportamento, pur non cambiando, non avrà più lo stesso impatto emotivo su di te. Quindi come si fa? Ti ringrazio per la domanda, bella domanda, non me l'aspettavo sinceramente. Allora, occorre partire da eliminare non persone, ma cose, azioni, comportamenti che magari stai mettendo in atto, non sai quanto ti fanno male, quanto ti tolgono energia e per scoprirlo iscriviti gratis al webinar Abbi cura di te del 16 dicembre ore 21. Vai sul sito felicisidiventa.it, siamo oltre 3.000 persone, manchi solo tu, iscriviti, è gratis, 16 dicembre ore 21, il sito è felicisidiventa.it. Salute di denti!